Under 16 appena finita la partita col San Paolo, una bella vittoria per 3 a 0, come sta andando? Bene, abbiamo finito il giorno dell'andata in Under 16, abbiamo fatto un bottino pieno, perdendo solo un set, siamo tranquilli, sereni, il vantaggio è a 4 punti proprio sul San Paolo, ci aspetta il giorno di ritorno, continuando a lavorare così siamo fiduciosi. L'obiettivo primo posto è molto importante per giocare la semifinale eventuale contro il secondo del tuo girone, avanti così, tranquilli.